Benvenuti a un nuovo appuntamento con il bianco e lo rosso Tibisport, un buon pomeriggio da parte di Cristian Siciliani, prosegue la marcia di avvicinamento alla delicata sfida di domenica contro il Parma, allora vi presento subito il mio ospite Michele Antonucci, direttore responsabile del Messina Gilbari. Buon pomeriggio Michele. Siamo in attesa di Enzo Tamborra, dobbiamo dire che è rimasto bloccato in tangenziale quindi potrebbe essere un cambio anche appuntata in corso. Per intanto vi ricordo il numero per intervenire in diretta che lo 080 501 9998 c'è subito una prima telefonata. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera sono Alberto. Buonasera. Senti, un saluto al tuo ospite, un invito più che un invito. L'inno del Bari quando lo trasmettono prima della partita lo dovrebbero mandare quando le squadre stanno uscendo dagli spogliatoi per caricare di più i giocatori. Quindi ti volevo far presente questo aspetto se è possibile comunicarlo allo speaker. E poi approfitto per salutare i due amici tifosissimi del Bari, Giacomo e Saverio. Un abbraccio. Grazie, grazie per il tuo intervento. Beh Michele gireremo questa richiesta alla società. Che ho ben inteso, di solito quando scattalino le squadre sono già nel tunnel, quindi comunque di sentirlo lo sento. Lo sento infatti, infatti. Allora bisogna dire notizia dell'ultima ora che i giocatori hanno chiesto a Giampiero Ventura di andare subito in ritiro. Quindi ritiro anticipato, la squadra... Si sono autoconvocati in ritiro. Sì, in ritiro ovviamente vogliono fare il gruppo, quindi un buon segno in vista della sfida col Parma, quindi una sfida delicata, il gruppo lo sa, quindi preferisce concentrarsi su questo impegno. Abbiamo intanto un'altra telefonata. Pronto? Pronto, ciao, sono Luigi, saluto Antonucci. Ciao Luigi. E papà che fine ha fatto? Eh, papà è infortunato, usiamo un termine sportivo calcistico. Perché lui è il portafortuna del Bari. Eh, lo so, però ce ne vuole veramente tante di fortuna in questo momento. Però poi io volevo dire, a riguardo, dato che abbiamo due uomini contati, e anche per esperimentare una nuova formazione, dare un certo che... Perché non proporre un galasso alla vecchia, cos'è una posizione originale, prima della trasformazione di Conte, cioè esterno. Oppure, anche il fatto di far giocare, cos'è una cosa, ad Alessandro e così. Perché non lo fa giocare a quel ragazzo, che c'è un bel dribbio, c'è la velocità e tutto il resto. Quindi, appunto, vedi un po' così. Ieri siamo stati più sfortunati che la Sampdoria... Eh sì, il Parma ha vinto, è vero, è vero. Quindi siamo tornati una volta dietro. No, speriamo che domenica fosse la volta buona del riscatto e di rompere questa serie nera. Grazie. Comunque, forza a Bari e saluti a papà! Beh, grazie, riferirò. Grazie per il tutto. Anche se penso che lui stia seguendo comunque per televisione la trasmissione. Beh, Michele, Bari-Parma, il Parma è un po' una bestia nera del Bari, arrivi in un momento dedicato, vedendo la classifica, che impressione ha avuto questa mattina, anche leggendo i giornali, vediamo, il Bari in fondo. Intanto ieri, devo dire, come tutti i tifosi del Bari, un po' male ci siamo rimasti, anche se non vogliamo tirare i piedi a nessuno, per carità, però più siamo meglio stiamo in questo momento. Forse era meglio che ci fossimo avvicinati a pari punti a questa sfida. Il Parma, dicevi, è una bestia nera, ma è una bestia nera soprattutto negli ultimi anni, negli ultimi vent'anni in particolare, cioè da quando il Bari gioca al San Nicola, e soprattutto in Serie A, perché poi tra l'altro il Bari in Serie A non ha mai battuto il Parma, ma da quando siamo al San Nicola, quindi dal 1990, il Bari ha giocato dieci volte col Parma e non ha mai vinto, anzi ne ha perse cinque in casa e poi cinque ne ha pareggiate, come l'anno scorso, che pareggiamo poi 1-1 col gol di Masello, che poi magari vedremo. Però in generale, diciamo, il trend si è invertito negativamente, soprattutto negli ultimi vent'anni, cioè al San Nicola, perché nel complesso ci sono 24 partite con nove vittorie del Bari, sette vittorie del Parma e otto pareggi. Se consideri che cinque vittorie le ha conseguiti al San Nicola, si capisce che è uno score negativo proprio degli ultimi anni, del San Nicola in particolare. 080 501 9998 il numero per intervenire in diretta. Beh, per quello che riguarda la formazione, dobbiamo dire che Alvarez e Gazzi sono sulla via del completo recupero, quindi dovrebbero essere in campo. Qualche buona notizia in questo periodo non guasta. Sì, da valutare invece ancora Vitaly Kutz, vale prese con una distorsione alla Caviglia, quindi qui c'è il balottaggio ancora con Caputo. Il nostro ascoltatore prima faceva riferimento ad Alessandro. Ventura preferisce non bruciare in questo momento il ragazzo, non dargli troppe responsabilità. Non so se sei d'accordo, Michele. Beh, sì, a parte il discorso che è un ragazzo che deve ancora formarsi e quindi col tempo deve maturare. Certamente siamo comunque in un periodo di estrema emergenza, quindi se mai fosse necessario, insomma, è una risorsa in più su cui disporre, perché insomma abbiamo raschiato il fondo del barile. E infatti, infatti siamo in una situazione di assoluta emergenza. Assolutamente. Continuiamo al Miron e sta proseguendo i suoi controlli. Quando le cose vanno male, vanno male in tutti i sensi. In tutti i sensi. Intanto abbiamo un altro ascoltatore in linea. Pronto? Buongiorno, sono Gigi Dabari, saluto l'ospite. Buonasera a lei. Sì, siamo in piena emergenza. Ma chi ha faciliato la rusa del Bari? Chi ha chiesto una rusa corta, pochi ma buoni? Chi diceva queste parole all'inizio stagione? Purtroppo mancano anche 7-8 elementi. Queste parole le diceva il mister Ventura. Allegretti, Camatà, Devezze, Carobbio, tutta questa gente. Chi ha mandato via tutta questa gente? Allegretti, il Bari, paga ancora la metà dello stipendio, perché il grosseto non può permettersi tutto lo stipendio di Allegretti. È stato letteralmente mandato via da Ventura. Cioè, senza nessuna spiegazione. Quindi non vedo il motivo delle lamentiere di Ventura. Siamo stati costretti a rientegrare Galasso, Strambelli, quindi non si deve piangere addosso al mister Ventura. E la bava la bocca, i ragazzi, mercoledì ce l'avevano. Ora tocca a lui. Ora tocca a lui. Grazie, grazie per il tuo intervento. Beh, mister Ventura non si sta piangendo addosso. Purtroppo i giocatori che mancano sono davvero tanti, quindi per ricorrere a Galasso, a Strambelli, vuol dire che le petezioni sono tante. Ricorrere in questo momento più per completare la panchina, perché poi cerca di mandare, più o meno non dico i titolari, ma quelli su cui ha sempre fatto affidamento negli ultimi tempi, chiaramente con tutti gli indisponibili del momento le scelte sono piuttosto obbligate. Poi, diciamo, consoliamoci sotto un altro aspetto, che un paio di acquisti del Bari non sono andati a buon fine, sono infortunati alla stessa maniera, perché Giovinco mi pare che starà in panchina. Sì, 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 ieri mi erano convocati, dovrebbe rientrare in panchina. Noi e muscolari, e vabbè, di Rinaudo sappiamo che rientrerà fra qualche mese. Quindi non li avremmo avuti comunque, voglio dire, era quasi segnata la cosa. Ieri intanto con il gruppo si è allenato anche finalmente Romero, tornato dopo i problemi, quindi lo aspettiamo, il giocatore avrà bisogno almeno di un paio di settimane prima di essere utile. Sì, utile, beh, sicuramente, vista la carenza di esterni, chissà che non possa essere un elemento in più a disposizione di Mister Ventura. Abbiamo intanto un altro ascoltatore in linea, pronto? 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 Sì. Sì, buonasera. Senta, io volevo dire soltanto questo, che qui a Bari, anche perché sono uno che lo segue il calcio da 60 anni, visto che ho quasi 70 anni, quindi da ragazzo mi portava mio padre, il Bari ha sempre dovuto soffrire, cioè giocare col coltello fra i denti per cercare di salvarsi, glielo può confermare anche il padre del signor Antonucci. E ma anche io lo so. Quindi l'anno scorso e due anni fa, se B e B e Serie A, sono stati due campionati fuori dal mondo per il Bari, cioè eccezionali. Quindi pensare di voler riproporre questo tipo di gioco, questo bel gioco, ci mancherebbe altro per lungo tempo, tipo Palermo, è assurdo, facendo questa campagna acquisti. Poi volevo dire una cosa, per cercare di salvarsi serve, come ho detto, la sciabala, il coltello. Vorrei vedere quel Bari che si salvava le ultime giornate, ma almeno si salvava e ci dava tanto entusiasmo. Quel Bari dell'anno scorso, di due anni fa, ce lo dobbiamo solo scordare. A meno che venga qualcuno che faccia una campagna dispendiosa, con una rosa lunga, per cui è inutile ricordare il passato. Quello ormai è passato. Se ci vogliamo salvare quest'anno, dobbiamo mettere fuori gli attributi. Grazie, grazie per il tuo intervento. Beh, questo la squadra l'ha capito, perché è un po' quello che è avvenuto a Verona contro il Chievo, maggiore determinazione, grinta. Non ci dobbiamo rassegnare a un destino segnato di sofferenza. No, 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 ora ovviamente bisogna mettere un po' da parte il gioco, però ovviamente dare qualcosa in più sul piano della grinta. Mi sembra inevitabile che a gennaio si ricorra un po' al mercato, perché la Serie A ha un patrimonio da non perdere. Ma come diceva Ventura, al di là dell'ultimo posto, proprio perché effettivamente ti mancano dei giocatori e devi in qualche modo rimpiazzarli. Ci sono una serie di cause che si sono accumulate tutte insieme, devo dire. Ci dobbiamo fermare un attimo, pubblicità, nella seconda parte vi faremo ascoltare anche le parole di Alessandro Grazi pochi minuti fa in conferenza stampa e poi ci saranno anche le foto dell'archivio storico del professor Gianni Temo Cisù. Enzo Tamborra, anche se stiamo benissimo Cristian. Aspettiamo anche Enzo Tamborra, pubblicità. Grazie.